Mi chiamo Andrea e ho fatto un intervento di liposizione addominale e ginecomastia. Ho scelto la Clinique perché dopo mesi di ricerca sul web ho fatto una selezione appunto sulle società che trattano chirurgia plastica, chirurgia estetica e quella che mi ha colpito di più, quella che mi ha seguito di più e mi ha dato più sicurezza è stata appunto la Clinique. Io sono un ragazzo sportivo, mi piace l'aspetto fisico e avendo comunque un pregresso da piccolino che comunque sono sempre stato abbastanza rotondetto, con l'attività fisica non sono mai riuscito a eliminare quella parte che comunque mi dava fastidio, quindi sul girovita e sulla zona pettorale. Devo ringraziare tutto lo staff della Clinique perché mi ha seguito, il medico è sempre stato disponibile nei confronti, mi spiegava. Il mio attuale rapporto col mio corpo è molto migliorato, sono molto più positivo, devo dire che oggi sono molto più positivo in questo e più sicuro di me stesso.